Moriglia, rimessa laterale per Gambino, Gambino salta in surplus, il numero 11 della formazione messinese è da Tomeo Tomeo che giostreggia tra tre giocatori, prova ad andare, fermato da tre, Filicetti apre il gioco per Cracò Cracò per Unniemi, il tiro di Unniemi, il tiro del pareggio, Daniele! Unniemi! 1-1 ha segnato Unniemi, pareggio del noto al quarantesimo e primo gol tra le buone amiche di Unniemi che si è messo un simpatico copricapo rosso che da qui non riusciamo a capire, forse si è vestito a Roma o a Ragno nonostante Carnevale sia lontano comunque quel che importa è che il noto abbia raggiunto il pareggio quando siamo al quarantesimo è nato tutto da un'invenzione di Cracò che ha servito sulla linea Unniemi che da pochi passi ha trafitto